LUMOS Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video Io intanto spero di riuscire a realizzare questa cosa Perché si tratta di una chiamata sicuramente internazionale Ho visto questo screen giorni fa E ho deciso che quando avessi avuto il rinnovo di Iliad Avrei fatto una ricarica un pochino più alta per fare questo video Oggi, dopo ben 19 anni Proveremo a sapere se posso ancora essere messo con un immane ritardo Alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts Prima però, devo capire come cavolo si faccia il più uno Quindi, stop il video Cerco di capirlo Ci vediamo, spero, solo dopo Allora ragazzi, credo che onestamente l'unico modo sia memorizzare il numero sul telefono Però io l'ho memorizzato senza nome Perché voglio vedere se anche a me esce quello che ho visto in qualche screenshot in giro Non riesco proprio ad addrizzarmi oggi Se riuscirà ovviamente cercherò di fare lo screen Ma adesso proviamo a far partire la famosa chiamata Vi avrò fatto passare il mio pareti Non so se l'ho già detto Il massimo taglio Il massimo taglio Il massimo taglio Il massimo taglio Grazie a tutti. 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 Vi farò la schermata per darvi la prova provata che la chiamata è assolutamente gratuita. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordo a tutti i fans di Harry Potter che io sto registrando domenica 15 marzo. Dal lunedì 16 marzo ci saranno ben due episodi della saga a settimana. Il che vi devo dire da una parte sono felice dall'altra complica ulteriormente le vostre richieste perché voi mi avete chiesto di fare le differenze tra libro e film. Io ci provo però guardare due film a settimana e recensirli e leggere il libro non è che sia tanto semplice. Lo so che ora siamo tutti a casa però io non vivo da solo. È già stata un'impresa trovare il tempo di fare questo video, credetemi. Quindi io ci provo però ecco se non ci riesco cercherò di inventarmi qualcos'altro per portare avanti il canale. Vi dico solo che non è semplice appunto perché non vivo solo e siamo tutti in quarantena per il motivo che sapete. Non lo scriverò neanche nel titolo. Mi rifiuto proprio. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Nox!